Domani per otto ore tutto il personale di Trenitalia incrocia le braccia dalle 9 alle 17. Saranno comunque garantiti alcuni treni, l'elenco sul sito. Per avere informazioni, oltre ai canali social e web, anche il numero verde gratuito 889 20 21. I sindacati denunciano che dalla fine della pandemia di fatto sono andate a peggiorare le condizioni di lavoro, sia dei ferrovieri che degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizia e di ristorazione. Lo scorso anno l'amministratore delegato di Gruppo Ferrovie dello Stato ha presentato il Piano Industriale 2022-2031, dichiarando che nel corso dei prossimi dieci anni il gruppo avrebbe visto l'assunzione di 40.000 nuovi lavoratori e investimenti per 190 miliardi. Il tutto per uno sviluppo sostenibile di infrastrutture e mobilità a servizio del Paese. Alla luce di queste parole, la Filt CGL ha chiesto a Trenitalia di passare dalle parole ai fatti, avviando un confronto per conoscere nel dettaglio dove sarebbero intervenute le assunzioni e dove avrebbero trovato sfogo gli investimenti dichiarati. Ad esempio, prosegue la Filt CGL, in Toscana si registrano significative carenze di personale nelle biglietterie e assistenze ai viaggiatori, nel settore equipaggi, oltre che nel comparto della manutenzione. Ad oggi, sostiene il sindacato, le carenze non sono state sanate e non si vedono all'orizzonte né assunzioni né investimenti nei diversi settori. La mobilitazione in Trenitalia è stata quindi inevitabile, e non solo per le carenze di personale, ma anche per una qualità di vita lavorativa che oggi più che mai emerge come una condizione irrinunciabile.